Aspetta, io devo venire là. Scusi. Inizio prima. In qualche seconda. Dai. Ciak. A Stefania. Che buona vita. Oggi vedrò casa di Stefania. Da lei tanto desiderata. Sono curioso. Che mare costruisce dietro l'uscio sbarrato? La pace? La memoria? Stefania. La tua casa non sarà l'ancora. Ma l'albero della nave. La tua casa è come la palpebra al difesa dell'occhio. La casa è come l'amicizia e ne raddoppia l'incanto. È un sentimento che manca l'amore. La sicurezza. Questa è la casa. Grazie. Bravo. Grazie. Sono senza parole. Ma complimenti. Grazie. Veramente. E' come la sicurezza. La palpebra che costruisce. E' come la casa. Allora, la vogliamo risentire? Mi riferisco, mi riferisco a far risentire. Grazie a tutti.